L'escalation di atti vandalici tornata nuovamente a registrarsi da qualche settimana non ha lasciato indifferente il neosindaco Angelo Cambiano. Il primo cittadino nel condannare gli atti ingendiarie di violenza e nell'esprimere solidarietà agli esercenti vittime degli attacchi ha parlato dell'ordine pubblico e dei possibili rimedi da mettere in atto per porre un freno. Mi incontrerò a breve con il prefetto per fare insieme al punto della situazione le parole di Angelo Cambiano. L'occasione sarà data dalla visita istituzionale. In quella sede parleremo di questi episodi e degli atti ingendiarie che nell'ultimo periodo hanno riguardato anche le attività commerciali. Cambiano ci ha però anticipato che alcune contromisure prima di un eventuale coordinamento tra i vari enti verranno prese anche a livello locale per tentare di fare deterrente ai propositi criminali di cui abbiamo raccontato in queste ultime settimane. Verranno potenziati i servizi esterni della polizia municipale, le parole del primo cittadino e attivati i sistemi di videosorveglianza attualmente dismessi. Il problema, inutile negarlo, è soprattutto notturno. Come abbiamo avuto modo di rilevare sul finire della scorsa settimana, neanche le attività del centro dove dovrebbe essere più facile essere notati sono risparmiati dai raid ingendiari. Addirittura uno dei locali preso a bersaglio da un atto ingendiario è situato a pochi metri dall'ingresso della Capitaneria di Porto. Alcuni esercenti hanno invocato a gran voce un maggiore controllo del territorio soprattutto in periferia e più che mai durante le ore notturne quando le attività rimangono maggiormente esposte. C'è poi l'inquietante susseguirsi di lanci di molotov contro residenze private e continui incendi ai portoni e ai cassonetti per la raccolta della spazzatura che ogni notte contribuiscono ad aggiornare il bollettino dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina